L'attività di mentoring è un viaggio, un viaggio che ha radici antichissime. La parola deriva da mentor. Mentor è il miglior amico di Ulisse, a cui Ulisse affidò suo figlio Telemaco prima di partire. Chi è un mentor? Il mentor è una guida e chiunque abbia voglia di mettere a disposizione degli altri, chiaramente su base volontaria, le proprie esperienze e le proprie competenze. Chi è un mentor? È una persona che vuole arricchirsi di competenze che lo porteranno a migliorare nel proprio ambito. Un mentee è chiunque abbia bisogno di un supporto nella scoperta delle proprie potenzialità, delle proprie competenze e della propria autostima. Perché è importante il mentoring? È importante perché un confronto con l'esperienza degli altri ci può permettere di guidare meglio le nostre scelte e di evitare di commettere degli errori. Perché permette ad una persona alle prime armi di essere preparato al meglio nel prendere delle decisioni importanti. Che risultato hai raggiunto grazie al mentoring? Col mentoring ho capito realmente quali possono essere i miei interessi e quindi ho capito che la strada che stavo intraprendendo non era quella corretta. Le conoscenze possono essere apprese da chiunque tramite i libri, mentre il mentoring aiuta a trasmettere quella che è la parte esperienziale che è molto difficile da assorbire se non sul campo. Come si dice in Sudafrica, se puoi andare veloce vai da solo, ma se puoi andare lontano vai insieme ad altri. Se vuoi diventare un mentor o ne cerchi uno, hai a disposizione uno strumento veramente importante. Vai sul sito www.alumni.unisi.it e troverai 130 professionisti veramente disponibili ad aiutarti. Ti aspettiamo! www.alumni.unisi.it www.alumni.it